La linea Imperial nasce come linea fashion dedicata all'uomo. L'uomo Imperial è un uomo che è attento alla moda, veste in modo ricercato, sofisticato e glamour. Please è un marchio di abbigliamento donna prodotto da Imperial SPA. Nell'estetica Please glamour ed eleganza si legano ad agilità e brillantezza, lasciando trasparire una forte attenzione verso le tendenze espressive e contemporanee. Please, 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 you'll never change, 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 change. I could say please, 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 it'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to let, I'm the one to blame, cause I believed everything you said. But I could say please, 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 you'll never change, 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 change. I could say please, 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 you'll be the same, 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 same. Love it, my friend. And not the end. La costante evoluzione creativa e l'ottimo rapporto fra qualità e prezzo rendono il prodotto Please un punto di riferimento per tutte le donne che amano vestire la quotidianità con energia positiva. La linea Please rappresenta la parte più giovane dell'azienda Imperial e crea una linea streetwear data dai trattamenti al denim, dalle stampe delle t-shirt e dai giubbini di pelle adatti ad ogni stagione. Lo stile di Please trae ispirazione dallo stile di vita della new generation. Tre parole, please, ricco, frizzante e accattivante. La linea Japanese I jump so high I touch the clouds Woah-oh-oh-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh I stretch my hands out to the sky We dance with monsters through the night Woah-oh-oh-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna look back Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna give it up No, please don't wake me now Yours will be done This is going to be the best day of my life My li-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i This is going to be the best day of my life My li-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i hours Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh, I'm never gonna fly Se volete essere sempre alla moda quindi scegliete Please in Corso Garibaldi a Fossombrone. Grazie per la visione! Grazie per la visione!